È il 24 aprile 2018 a Bergamo e Just a Few Images è all'Ink Club, siamo con Giuseppe Gotts Nucera, sassoffro contralto e soprano nell'acoustic paccianca folk trio La Maleleche. È un gruppo che che non ha come dire ha così tanti nomi e generi che appunto noi alla fine li mischiamo tutti non sapendo cosa suoniamo cosa facciamo è come dire un escamotage per non dire stiamo sbagliando cioè quando pensi che sia paccianca invece stiamo facendo reggae quando pensi che stiamo facendo reggae invece bram un rock folk e quindi come dire alla fine siamo prendiamo in giro il nostro pubblico ma in verità è perché prendiamo in giro noi stessi tra l'altro un piccolo appunto si dice la Maleleche perché es espanol, es es espanol non so neanche se parlare ho bevuto troppo 24 aprile fra 5 giorni faccio 36 anni caldo caldazza caldazza è il periodo più più pieno di date della mia vita ti dico ti e vi dico non so a quale pubblico stia parlando e 11 date in 14 giorni quindi questa è la è la terza e quindi vabbè si si penserebbe che io faccio il musicista invece non faccio il musicista suono per passione però è un bel casino appunto poi quando inizia essere così strong l'impegno vabbè comunque saluto tutti i miei fan le mie fans che magari non sanno neanche chi sia e che cosa sia la Maleleche però venite a sentirci bellissimo il canale youtube sul quale stiamo andando senza sapere quale esso sia e come dire alla fine vabbè lancio un messaggio così fate quello che pensate sia la vostra missione la vostra strada fate quello qualsiasi cosa in cui vi sentite soddisfatti liberi perché alla fine di vita ce n'è solo una quindi alla fine se guadagnate 5000 euro 700 euro che cazzo me ne fotte fate la vostra cosa e continuate così vi saluto alla Pino Scotto ma che cazzo volete e ciao mi abbao alla prossima grazie grazie a voi grazie a voi